Proviamo presso la piscina monumentale di Torino dove si stanno svolgendo proprio in questi giorni i campionati europei di tuffi ma sentiamo in proposito Noemi Bachi che nella gara di mercoledì si è giudicata la sua prima medaglia d'oro è stata la prima medaglia d'oro dopo l'argento dell'anno scorso agli europei di Budapest però sicuramente una vincita così è unica, è stata la prima e spero che non sia l'ultima Te l'aspettavi una vittoria? Beh è difficile aspettarsela, ci speravo però una gara ovviamente comporta tanti fattori ci sono anche tante altre atlete forti e ovviamente non si può mai sapere quanto sono in forma non l'avevo vista allenarsi e quindi io facevo la mia gara e così è andata bene È andata bene, ti sei giudicata dunque la medaglia a Torino quindi porta bene il tuo prossimo impegno quale sarà? Adesso abbiamo un po' di pausa, un po' di relax e poi comincia il circuito dei Grand Prix ce ne sarà uno in Florida dove parteciperemo e sicuramente però l'impegno di quest'anno il prossimo importante sarà nei mondiali a Shanghai a luglio Grazie! Grazie!